Il design accompagna l'uomo fin dalle sue origini per soddisfare le sue necessità con oggetti, utensili, macchine, ma è in particolare dal XVIII secolo che esso assume il significato programmatico di progetto, proiezione, intenzione, con riferimento alla ideazione e alla realizzazione in serie di un prodotto. Il termine design viene ufficialmente adottato durante la prima rivoluzione industriale, avvenuta in Inghilterra tra il 1760 e il 1830, al cui prima di grande innovazione contribuirono la conoscenza scientifica e l'avanzamento tecnologico, con alcune importanti invenzioni come la macchina a vapore e il telaio meccanico. L'industrializzazione pone dunque le basi per la professione del designer in qualità di progettista. Grazie all'utilizzo di macchine progettate con lo scopo di funzionalità ed efficienza, sono molti gli oggetti di uso quotidiano che cominciano ad essere prodotti in larghe quantità per una estesa distribuzione. Con la rivoluzione industriale si svilupparono principalmente i settori produttivi, tessile, metallurgico e manifatturiero, liberando nuova forza lavoro e comportando un incremento del reddito con nuovi sbocchi sul mercato interno. Nello specifico, il settore tessile inglese ricevette grande impulso con l'adozione del filatoio meccanico di John Kaye, l'adozione della spoletta mobile di James Hergraves e il filatoio idraulico di Richard Arkwright. I progressi tecnici permisero un vertiginoso aumento nella velocità di tessitura, incrementando la produzione di tessuti, soprattutto in fibra di cotone. Ciò si accompagnò alla realizzazione delle prime fabbriche e alla trasformazione dei cotonifici in settori trainanti dell'economia. Un ulteriore miglioramento si ottenne con la costruzione nel 1785 della prima macchina per tessitura automatica di Edmund Cartwright. Le sue innovative tecniche di filatura e tessitura rimpiazzarono presto quelle manuali del lavoro a Cottimo e a domicilio e portarono la costruzione di fabbriche nella regione attorno a Manchester, lungo i corsi d'acqua, per sfruttare l'energia idraulica dove i nuovi filatoi venivano messi in funzione e dove converge la forza lavoro. Rispetto al più consolidato settore tessile di produzione di lana e lino, l'industria cotoniera inglese si sviluppò rapidamente, in quanto libera dalle restrittive regolamentazioni corporative e permise una larga espansione di tessuti e derivati per la confezione di abiti, accessori di biancheria, tendaggi che cambiarono le mode del tempo. Nell'ambito metallurgico, oltre alla realizzazione di utensili e macchine per le produzioni tessili meccaniche, si registrano anche le prime sperimentazioni con materiali nuovi, come ferro, ghisa e acciaio derivati dall'arborazione del coke, derivato del carbone fossile. Il ponte sul fiume Severn a Coolbrookdale è emblematico per la sua costruzione con elementi prodotti industrialmente, un arco in grado di coprire una distanza di 30 metri formato da strutture reticolari in ghisa, fuse nella ferriera di Abraham Darby, pioniere dell'industria siderurgica. Un altro imprenditore moderno considerato tra i primi designer fu Matthew Balton, il quale ereditò dal padre un'azienda di toys, ossia minuterie, bottoni, fermagli, montature e di articoli metallici come candelieri, vasi, stufe, ringhiere, panchine. Balton riuscì a rilanciare la piccola ditta delle dimensioni di una bottega artigianale con l'introduzione delle lavorazioni meccanizzate, portatrici di un massiccio incremento della produttività per ciascun addetto e della produzione in generale. Contribuirono al suo successo la strategia di diversificazione dei prodotti e realizzazione sia per uso domestico che urbano, l'adozione dello Sheffield Plate, un procedimento per placare d'argento oggetti in rame per impreziosire nell'aspetto e la ricerca e applicazione di eleganti decorazioni per il mercato del lusso guadagnando il favore di un universo di consumatori molto esteso e variegato. Balton ricorse allo stile neoclassico che aveva i propri riferimenti nelle architetture di Robert e James Adam e che si esprimeva nella riduzione geometrica e nella reiterazione di elementi classici ideali per la produzione multipla. Anche la manifattura ceramica ha un ruolo di rilievo in questa stagione di industrializzazione e Josia Wedgwood è uno dei riferimenti principali. Wedgwood, discendente di una famiglia di ceramisti attiva già agli inizi del 600, fondò la manifattura Etruria nel 1769. A lui si deve l'introduzione di importanti novità tecnologiche come l'impiego di stampi e l'adozione della macchina a vapore per macinare i materiali ed azionare i torni. Si interessò all'approvvigionamento di materie prime importando terre speciali, migliorò le crete e gli smalti con costituenti chimici, utilizzò il banco rotante e il pirometro per controllare la temperatura dei forni. L'elevata qualità estetica dei suoi manufatti era dovuta ai celebri disegnatori che svolgevano attività di ricerca recandosi spesso in Italia a studiare il disegno dei classici antichi, così da poterne riprodurre fedelmente temi e motivi sulla ceramica. Uno di loro, John Flaxman, adottò la tecnica cammeo che prevedeva il disegno in risalto, uniformemente di colore bianco su sfondo scuro. Ma il capolavoro commerciale di Wedgwood fu la messa a punto, con il patronato della regina Charlotte, di un corpo ceramico color panna definito creamware, poi queensware, ottenuto da un processo di lavorazione dell'argilla semplificato ed economico, che si rivelò essere un prodotto estremamente versatile, proponibile sia grezzo che decorato, dedicato sia al raffinato gusto dell'aristocrazia che per un più largo mercato di uso quotidiano. Con l'ufficializzazione della rivoluzione industriale, il design diviene dunque sinonimo di semplificazione della forma unita all'assolvimento della funzione, ad una rinnovata qualità e al prezzo contenuto, reso evidente dai processi di metodo e modelli estetici replicabili. Nel 1776 Adam Smith, con la ricerca sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni, teorizza l'organizzazione e la suddivisione del lavoro, quali responsabili dei nuovi modelli produttivi, in cui evidenzia come le macchine facilitino e abbrevino il lavoro, generando migliorie e destrezza per le distinte mansioni, consentendo grande risparmio di tempo e un netto contenimento dei costi, per una più larga distribuzione. Risulta evidente come la produzione in serie di consistenti dimensioni imponga alle aziende un diversificato approccio al mercato. La promozione e la vendita dei prodotti su vasta scala innescarono infatti le prime strutturate retti di vendita, con la nuova professione dell'agente di commercio e il lancio di un'editoria dedicata. Si stamparono cataloghi e libri di modelli allo scopo di illustrare prodotti per sollecitare e assicurarsi gli ordini di manufatti, sempre più spesso prodotti in forma standardizzata, per essere poi personalizzati e perfezionati manualmente. Accanto ai fabbricanti di mobili come Thomas Chipendale e Thomas Sheraton, Joseph Wedgwood con l'album Useful Wear utilizza il formato del catalogo pubblicato in diverse lingue, per chiarire la scelta di prodotti e di stili con la riproposizione di sagome e di repertori di elementi decorativi. Un percorso particolare è quello di Christopher Dresser, designer scozzese tra i maggiori interpreti del movimento estetico Arts & Craft. Con la sua attività di progettazione e produzione indipendente si occupò soprattutto di ornamento e arte decorativa, che espresse su tessuti, carte da parati, tappeti, ceramica, legno, vetro, con modelli e oggetti di uso quotidiano, di qualità, pensati per una produzione di massa. Con la crescere dell'importanza del design, la preparazione del disegnatore diventa più specialistica. Oltre ai laboratori di produzione, riuniti in corporazioni e alle classiche accademie d'arte, cominciarono ad emergere nuove scuole di formazione e soprattutto vengono istituiti i musei, le cui collezioni diventano motivo di educazione alle tecniche di realizzazione oltre che al gusto. È qui che entra in gioco Henry Colla, per anni funzionario del Public Record Office, pittore, editore e sostenitore delle arti applicate, consulente del principe Albert e fondatore del Victoria & Albert Museum, ideatore e promotore della prima esposizione mondiale, emporio di prodotti di tutto il mondo. Grazie anche al suo operato, il 1 maggio del 1851 viene inaugurata la Great Exhibition of the Industry of All Nations, manifestazione che vide 5 mesi di apertura, 6 milioni di visitatori, più di 200.000 articoli proposti e 15.000 espositori. Ad ospitare tanta ricchezza produttiva fu il Crystal Palace, un modernissimo palazzo di vetro, ghisa e acciaio progettato da Joseph Paxton, facendo ricorso a componenti prefabbricati, modulari ed intercambiabili. La Great Exhibition non solo segnò la definitiva consacrazione dell'industria come protagonista assoluta del progresso, ma consolidò anche il valore commerciale di esposizioni e fiere campionarie, veri e propri cataloghi dello stato dell'arte produttivo e insieme metafora della nuova civiltà industriale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie!